Si indice per sabato prossimo 12 gennaio la sfida con il vice capovista oratorio San Ciro e Giorgio, che si disputerà allo stadio Ianselmo di Belmonte Mezzagno. Si tratta di uno scontro importante, il quesito finale potrebbe riaprire i giochi per l'alta classifica. La compaggine palermitana, che ha la sua sede naturale a Marineo, disputa le gare Casalinchia a Belmonte Mezzagno, che in tutto il campionato ha perso appena due volte. Ricordiamo il 4-0 con l'Olimpica Acregas sul neutro di Campofranco e il Castel Termini. In totale ha ottenuto 11 vittorie e 3 pari ed in casa ha sempre ottenuto solo vittorie. Un buon ruolino di marcia per una squadra che mira ad un torneo di assestamento per una semplice tranquilla salvezza. Di contro un'Olimpica Acregas rigenerata dalla recente vittoria conseguita con l'ottimo Castel Termini, grazie ad una migliore forma ritrovata e dall'avvento di nuovi elementi che hanno saputo dare una migliore quadratura tecnico-tattica. Intanto il giudice sportivo ha inibito sino al prossimo 31 gennaio il medico sociale, nonché presidente biancazzurro Salvatore Bottone, ed è stato fermato per due giornate anche Francesco Nobile. Per quanto riguarda le altre squadre è stata combinata una giornata di squalifica Giovanni Zabbia del Don Bosco Partinico, Stefano Corso del Don Carlo Misilmeni e Simone Di Benedetto del Villabate. Poi per recidiva in ammunizione è stato a squalificato Giuseppe Cusumano del Castel Termini e Cristian Di Giovanni dell'Oratorio San Ciro San Giorgio. Multata invece di 100 euro la Gattopardo è fermato sino al prossimo 5 febbraio il tecnico palmese Pietralotto, mentre Angelo Vecchio del Castel Termini è stato fermato sino al prossimo 20 gennaio. Cambiando invece disciplina, la SEAP Aragona di Volley Femminile, dopo le dimissioni per motivi strettamente personali del coach Francesco Liceo, è stato scelto il nuovo sostituto, si tratta di Paolo Collavini, grande esperienza accumulata negli anni. Nel suo curriculum spiccano la Sirio Perugia in A1, Roma in A2, ancora Perugia in A1 e rappresentative giovanili nazionali. Ultimamente ha vinto un campionato in B1 con Cera Umbra ed una salvezza sulla panchina dell'Arzano in B1. La scorsa stagione ha allenato la Ginova Scafati in B1.